Ho il piacere di essere testimonia dell'Associazione Culturale Leonardo da Vinci Arte e Progetti, un punto molto importante nella città di Siracusa, dove potete apprezzare sia le invenzioni di Leonardo da Vinci, sia la figura di Archimede. Nel 2017 Siracusa festeggerà i 2750 anni dalla sua fondazione. Grazie a tutti.